Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. A Tirano è assalto ai saldi. Sarà perché sono convenienti, sarà perché un vestito di buona fattura ad un prezzo inferiore rispetto al consueto fa sempre gola. Fatto sta che nella maggior parte dei negozi dislocati fra il Centro Storico e Viale Italia, i saldi piacciono eppure tanto. Soddisfatti i titolari che accolgono con il sorriso i residenti, ma anche un gran numero di turisti giunti in valle in queste settimane per cercare un po' di refrigerio e ammirare i verdeggianti paesaggi. Noi siamo in Valtellina, siamo in vacanza, veniamo dal Benga in Liguria, dalla Liguria, e qui ci sono negozi fantastici, è un posto meraviglioso. Loro arrivano dal mare, hanno scoperto le delizie culinarie e paesaggistiche della Valtellina e non potevano non concedersi sano shopping. I saldi stanno andando benissimo, siamo molto contenti per come sono partiti e vi aspettiamo per i nuovi arrivi e la nuova collezione. Quest'anno è molto caldo e per la maggiore vanno i vestiti. Questa partenza dei saldi è stata alla grande, stiamo lavorando molto bene, c'è un buonissimo afflusso di clienti anche stranieri e Tirano, devo dire, sta diventando sempre più interessante e più appetibile un po' per il pubblico anche straniero. Abbiamo tante tipologie di saldi, dai saldi di partenza, diciamo, dal 20% fino al 30% e arrivare fino al 50% sugli articoli, quelli che sono gli ultimi pezzi. Devo dire che la clientela comunque ci sta riconoscendo un ottimo flusso perché vedono un negozio con tanti articoli e quindi possono scegliere quello che preferiscono. Caccia agli sconti anche da parte di ragazzi giovani e meno giovani, attenti alla moda e dettagli. Valtellina per tanti significa montagna, lunghe e passeggiate, sport sano ed è per questo che in questi giorni di sole e caldo si è vista una maggiore affluenza rispetto al consueto anche nel negozio di articoli sportivi Idea Sport in via Pedrotti a Tirano. Ottimi saldi, diciamo che la stagione sta andando molto bene, in particolare il settore trainante, quello del trail running e del trail in generale perché la gente va tanto a camminare, a vivere le nostre montagne e quindi diciamo che si attrezza nel modo giusto. Quest'anno veramente siamo molto contenti dei saldi perché abbiamo tantissimi turisti anche stranieri, forse un po' meno i nostri italiani ma c'è un sacco di gente in giro anche ben propensa a comprare.